bello, bello funziona il brano Tonine Delvira oltre ad averti ispirato per quanto riguarda proprio il brano è anche un po' una sorta di dichiarazione sul tuo modus vivendi cioè hai niente a che fare con Scarface anche nella vita di tutti i giorni no? Perché ovviamente scarso, ma molti rap ovviamente scarzano un po', scarzano giocano un po' con questa storia dell'essere un pochettino come un po' gangstar, sì, ma chiaramente io ho sempre sostenuto che molti scimmiotano, nel senso che proprio anzi per qualche avverso un poco sono dissagranti, piuttosto che appunto emuli, poi magari ci sarà il mondo è bello perché è vario, ma anche questo, in questo caso, io penso che quella tua sia proprio una citazione del film piuttosto che un'emulazione o hai qualcosa da aggiungere? No, assolutamente sono solo citazioni appunto che prendono spunto dal film quello che è appunto